Diciamo abbiamo cercato di reinventarci e proponiamo gli aperitivi al mattino soprattutto sabato mattina facciamo delle colazioni un po' strane dai cappelletti in brodo alla carbonara alla piadina con la porchetta ce la mettiamo tutta per superare questo periodo duro stringiamo i denti e ce la metteremo tutta per superarlo speriamo in tempi migliori Hai parlato appunto di colazioni molto molto strane anche un po' come sono state accolte dai clienti ma con molto entusiasmo la gente si diverte esce prima sa che un piatto di cappelletti alle 9 e mezza del mattino non si trova in tanti posti quindi è una cosa un po' divertente un po' fuori dalle righe ed è piaciuta anche perché in un momento come questo anche fare divertire la gente è una cosa molto molto importante parliamo anche di un'altra situazione perché so che hai preso ancora non è pronto hai preso in gestione Lex e Divina tu assieme ad altri soci doveva essere probabilmente anche un po' il mese dell'inaugurazione poi c'è stato di nuovo questo ritorno a Zona Zala lo ricordiamo per la regione Marche parlaci un po' di questa situazione e del locale allora abbiamo preso abbiamo rilevato quest'estate Lex Divina e la nostra idea è quella di fare un gastropub e vista questa situazione abbiamo deciso di fare i lavori con più calma per farci trovare pronti al meglio quando tutto sarà finito per riportare un po' di vivacità anche qui a Montecchio, qui a Vallefoglia si parla quindi presumo adesso di 2021 per l'inaugurazione ufficiale o magari tempo al tempo anche vedere come la situazione progredirà nei prossimi settimane nei prossimi mesi il target a cui principalmente si riferisce questo nuovo locale? è un pub, un gastropub aperto a un pubblico ampio dalla famiglia alla compagnia al compleanno alla festa di laurea vogliamo ovviamente puntare su un pubblico giovane soprattutto per il weekend e riportare un po' di vivacità anche qua nella nostra zona con musica dal vivo, DJ e poi tutti i dettagli non posso dirvi perché ci stiamo lavorando mano a mano penso che apriremo, non so dirlo, adesso aspettiamo i nuovi provvedimenti ma sicuramente gennaio, dicembre, non lo so, non so dirlo nemmeno io intanto ci stiamo lavorando sodo